Normalmente le interviste si preparano, ed anche questa volta è accaduto. E poi è arrivata la fatidica domanda, ma voi di tanto particolare, di tanto diverso, cosa fate dagli altri? Non avevo risposta, e così semplicemente ho accantonato la domanda. Noi siamo la DM Tice e dal 1994 realizziamo cravate ed accessori fatti a mano. Da un certo punto la mia attenzione si è focalizzata su due temi che mi sono molto a cuore, che riguardano la mia azienda di famiglia. La DM Tice è nata e prosperata nella nostra comunità, nella comunità che ci ospita, e attualmente 23 famiglie contano su questa realtà. E nonostante decidere di fare l'imprenditoria di questi tempi con posti, responsabilità e rischi ancora maggiori rispetto al passato, però ci consente di, prima di tutto, di differenziare moltissimo la nostra produzione, nel senso che siamo in grado, avendo delle sarte a disposizione, di presentare sempre nuovi prodotti. E poi anche di fornire alla nostra clientela, sempre più informata e sempre più esigente, un servizio di sommisura e di personalizzazione assai spinti. Il secondo tema che mi sta molto a cuore è il valore aggiunto che ogni nostro prodotto porta con sé. Il nostro standard qualitativo è molto alto e per questo devo dire grazie a mia madre, Marisa, e alla signora Rosa, che sono state le mie maestre. Grazie a loro ho raggiunto livelli di conoscenza attuali, che mi consentono di mantenere così alto il nostro standard qualitativo. Ma questo non basta, perché io so che i nostri prodotti, ciascun nostro prodotto, viene realizzato con cura, con amore, con dedizione e con l'intento, sempre vivo, di rendere felici i nostri clienti. Per anni ho pensato, ho creduto, che produrre accessori non fosse un lavoro granché utile alla società. Poi un giorno mi sono persa nello sguardo incantato di un nostro cliente, che in quel momento sceglieva i tessuti per le sue nuove cravate. E piano piano ho cominciato a capire quanto i nostri clienti apprezzino scegliere i tessuti, di indossare i nostri prodotti, soprattutto perché sanno che sono fatti a mano e che sono fatti a mano con amore. E così, del loro entusiasmo e del loro trasporto nei nostri confronti, io ho imparato a cibarmi. Ed è una cosa particolarmente gratificante. E così, un giorno, finalmente, ho realizzato che, tutto sommato, a modo nostro, anche noi, con questo lavoro, rendiamo un servizio alla nostra comunità. A mio avviso, il ruolo principale delle donne rimane ancora quello di accudire. Ed io, come imprenditrice, insieme al mio staff, composto prevalentemente da donne, ci prendiamo cura, felicemente, dei nostri clienti. E allora, benvenuti alla DM Tice e benvenuti in famiglia.